la watch tower dispone che la commemorazione avverrà in presenza perché sceglierà di andare in presenza proprio ora proprio ora che l'indice di contagio purtroppo è risalita e resteranno ci chiediamo aperte le sale anche dopo la commemorazione cosiddetta certo non saranno contenti quei fratelli che a causa di varie chiusure di varie sale vendute si trovano costretti a fare parecchi chilometri andare avanti e indietro lo so sono un po cattivo